d'Italia, ma deve terminare questa narrazione che è ripresa, secondo la quale al nord abbiamo le virtù, al sud abbiamo i miserabili. Dobbiamo fare un'operazione verità, spiegare bene che oggi come oggi al sud arrivano meno risorse per la spesa pubblica, abbiamo il 25% in meno di spesa sanitaria, abbiamo meno posti letto, meno ospedali, meno medici, questa storia deve finire. Noi riteniamo di non togliere neanche un euro alle regioni del nord, le regioni sviluppate sono la ricchezza dell'Italia, dobbiamo sostenere, ma la spesa aggiuntiva va indirizzata al sud.